Ciao, sono Elisa, ho 28 anni, vivo a Sordevolo, sono un'alpigiana e sono a capo di una azienda agricola che alleva vacche da latte pezzata rossa d'Europa e capre e produciamo con il nostro latte formaggi a latte crudo. Da piccola spesso passavo le mattinate in alpeggio con nonna e andavamo insieme al pascolo, quindi mi ha insegnato a gestire gli animali al pascolo, a come condurli e il nonno invece mi ha insegnato a mungere. La prima volta che ho provato a mungere con nonna avevo 3-4 anni, quindi sono stati loro a trasmettermi tutto questo e la cosa che più mi piace è il gusto del latte appena munto, che ha un gusto unico e insomma non ce n'è. Noi da tradizione di famiglia facciamo ancora la transumanza, tutte le primavere saliamo in alpeggio e tutti gli autunni scendiamo in pianura, pertanto siamo un'azienda nomade e tutto l'anno produciamo comunque formaggi. Tra me e i miei animali c'è un rapporto che va oltre al rapporto lavorativo, ma c'è un rapporto anche affettivo, tant'è vero che ogni animale ha il suo nome e io le riconosco ognuna con il suo nome, come fossero delle persone.